Il leader della Lega, un governo di centrodestra avrebbe i numeri in Parlamento. Italia viva, no alla crisi, ma non siamo yes man. C'è agitazione nel centrodestra per le parole di Matteo Salvini, che due giorni fa ha aperto a un eventuale governo di emergenza per portare l'Italia al voto. Per il leader della Lega, infatti, ciò che Conta ha detto sabato in conferenza stampa a Catania non sono i governoni, governini o governetti, basta che quello che verrà sia un esecutivo fatto di persone serie e competenti. Parole che avevano scosso i suoi alleati, a cominciare da fratelli d'Italia. Non governeremo mai con Grillini ed Em, Ta. Grazie a tutti.